io penso che le bugie hanno le gambe corte però anche le stronzate si mi chiedono già di bombaroli ce ne sono tanti di questo periodo c'è gente che in 15 giorni ha sparato 20 nuovi di mercato giocatori che non arriveranno mai giocatori sconosciuti ma è il buon pelle il gatto pelle l'anziano che parla del mira adesso io dico con tutto il rispetto ma perché c'è bisogno di fare questi video tu dici nei tuoi video negli ultimi giorni hai parlato di Ronaldo di Ziyech di questo di quell'altro poi alla fine dici che non arriverà nessuno ma voi avete visto il video di oggi del pelle ha tirato fuori un'altra volta un nome che io quando l'ho visto ho detto ma tutto bene perché non andiamo a prendere Renato Sanchez in prestito ancora 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 adesso io capisco che video non ce n'è da fare argomenti non ce n'è perché veramente in questo momento fare lo youtuber è veramente difficile per chi parla di calcio perché non ce n'è argomenti ma non c'è bisogno di sparare stronzate per forza andiamo a prendere Renato Sanchez in prestito c'è uno tutto scassato che ci ha scartato come se fossimo come se il Milan fosse una squadra di regionali ci ha scartato proprio e io dovrei andare a prendere in prestito Renato Sanchez ma perché certe puttanate per letto ma proprio tu mi stai deludendo ultimamente da quando fai lo youtuber mi stai deludendo prima eri un giornalista rispettato cazzo ma da quando fai lo youtuber si parli di quelle cagate ma di quelle cagate non non ma non 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 ق non non Grazie a tutti.